Avvocati, eravamo quando abbiamo fatto tutti i cai della madre camoreca, lì abbiamo fatto il radunno regionale, c'è ragione che tutti i caiavano, c'è il presidente del cai di Bordolo che si è fatto operare il gomito destro, poi è caduto il gomito sinistro e lì a lei si è ingerrato, si è ingerrato poi. Lui c'è la sua moglie che l'aiutava, gli amici che tagliavano la carne, l'amboccavano veramente, erano seguiti, è me che gli diceva, ma scusami, ma che scappa le napi e gli api con me, siamo l'amboccavano, dopo viene poi il discorso, lui è mia moglie veramente brava, L'altro le diceva, mia moglie è brava, dico, ah mia moglie, anche la mia moglie, guarda, ma te caldano, tua moglie, figlio mio carino, o resta l'euro, dice, mia moglie, fai una cosa, prendi un posto di due quintali di acqua, gli fai mettere dentro due dita, hai due quintali di gerbante, è buono? Tremendo!